Una scuola di formazione per cavalieri di giostre di antico regime. È questo l'ultimo progetto lanciato dall'ente giostra della Quintana di Foligno e presentato a Palazzo Candiotti. L'iniziativa, fortemente voluta da tutto il mondo quintanaro, si rivolge a giovani con un'adeguata preparazione tecnica di base conseguita in scuole affiliate fise che vogliono specializzarsi nelle settore delle giostre antiche. Ma il master cavalieri di giostra non è mirato solamente alla formazione tecnica di nuovi cavalieri, ma anche ad una crescita a 360 gradi di tutto il personale che ruota intorno alle scuderie rionali. Questa scuola ha lo scopo, si prefigge lo scopo di scoprire talenti, è uno scopo molto ambizioso ma questo è il nostro obiettivo. Il master prevede tre aree didattiche, discipline giuridiche con approfondimenti per quanto riguarda la legislazione sulla tutela degli animali, discipline motorie e discipline medico-veterinarie con argomenti finalizzati alla salvaguardia dell'animale e ad interventi di primo soccorso. Tutto questo perché certamente l'ente giostra punta a qualificare sia uomini di scuderia ma anche e soprattutto i cavalieri di giostra. Le tempistiche del master cavalieri di giostra che si svolgerà a Foligno presso le centro fise di Lorenzo Paci saranno estremamente serrate. Entro il mese di aprile verranno infatti completati tutti i passaggi burocratici per poter iniziare entro la metà di maggio con le prime elezioni.